Musica Ennesima tragedia sul lavoro in Italia. Un operaio era salito sul tetto del supermercato Lidl di Viale, Venezia, Udine, per rimuovere la copertura del capannone. Improvvisamente il 34enne è caduto nel vuoto perdendo la vita mentre lavorava per la ditta di traslochi di famiglia. Nulla hanno potuto fare gli operatori del 118 per via delle ferite, troppo gravi, l'uomo è morto sul colpo. Secondo una prima ricostruzione, poco prima delle 16 di ieri, l'operaio era salito sul tetto del supermercato per rimuovere la copertura del capannone. Per cause ancora da chiarire, è caduto dopo aver sfondato un lucernario. Grazie a tutti.